Ciao, non vi ho mai visto da queste parti, questa è, o meglio era, la fattoria di Cugiara, per colpa dei maiali cattivi ora è una landa desolata, per questo motivo abito lassù, nel capanno di Cugiara, vi congenerete se resterete laggiù immobili? Hai detto che rischiamo di congelare, ma tu non l'hai freddo? Guarda, questi abiti dello scogliattolo volante sono fatti con le pellicce di Cugiara della fattoria, vengono molto caldo, ma questo è il mio preferito, non posso darvelo La cosa più importante Ima è come hai fatto a salire fin lassù? Ragazzi, conoscete il martello di fuoco? Ma, martello di fuoco? Tommy, ha un normalissimo martello? Un normale martello non basta Potete andare da coma e chiederle un po' di informazioni Dovrebbe trovarsi vicino al grande pezzo di ghiaccio davanti a voi E fate attenzione, la nera è scivolosa A presto non Mamma L'ho visto, quel cammino coperto di nere. Ho visto Babbo Natale entrarci, davvero l'ho visto. Che freddo! Fa veramente freddo senza gli abiti dello scoiattolo volante. Cosa stai facendo? Ehi ragazzo, ti va di giocare un po' insieme a me? Cosa vuoi dire? Allora, ho nascosto il mio diario da qualche parte, qui alla fattoria. Beh, non credo che lo troverai. Ma se dovessi riportarmelo, ti darò una bella ricompetta. Ehi ragazzo, ti va di giocare. Così non va? Come? Oh, scusate. Ero immerso nei miei pensieri. Qualcosa non va? Sei tutto preoccupato. Devo aver capito male. Beh, è veramente imbarazzante. Credo di aver perso il grande sacco, qui da qualche parte. È molto importante per me. Senza sacco non posso lavorare. Un grande sacco. Niente paura. Tummi, andiamo a cercarlo. Un grande sacco. Un grande sacco. Il mio diario. Maleduzione. Ero assolutamente sicuro che non l'avrebbe mai trovato. Non l'hai letto, vero? Non hai letto quello che c'è scritto? Allora non dovresti nasconderlo? Va bene, la promessa è una promessa. Ecco qua. La chiave per lo scrigno del tesoro. Esatto, è una chiave verde per aprire gli scrigni del tesoro verde. Beh, non me ne importa molto, perciò non preoccuparti. In effetti c'è uno scrigno del tesoro verde proprio lassù. Perché non provi ad aprirlo? Beh, ho freddo. Devo proprio andare. C'è uno scritto. sei inviattante spiacente ma non riuscirai a salire più in alto non si può sciogliere un pezzo di ghiaccio così grande senza un martello di fuoco e nessuno ce l'ha mi è stato detto che all'interno potrebbe nascondersi il grande maio 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 Grazie a tutti. 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 Oh, quindi ero da queste parti. Bene, grazie. Mi avete fatto un gran favore. Posso riprendere il cammino. Oh mio, è completamente congelato. Mi avete salvato. Mi avete salvato. Grazie. Ecco, si chiama martello di fuoco. Come potete vedere, come potete vedere, un martello con il potere del fuoco. Appena sbucate da questo cammino, appena sbucate da questo cammino e salite su per la scala, troverete un grande pezzo di ghiaccio. Potete provare a usare il martello. Attenzione, dentro potrebbe celarsi il grande maiale di ghiaccio. Beh, devo partire, spero di rivedervi. Spero di rivedervi. Ma chi sarà? Babbo Natale, è volato via. Chissà se andrà anche a casa mia. Spero di rivedervi. Spero di rivedervi. Spero di rivedervi. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. 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 a tutti.